Ministero, un pareggio con la Ternana, un pareggio oggi a Bari, ma quanto vale questo 1-1? Tutti e due sono valsi per due buone prestazioni. Oggi abbiamo subito la prima mezz'ora al Bari, che secondo me è stata molto più brava di noi a interpretare la partita su questo campo. È stata molto reimbante, è stata molto aggressiva, non ci ha mai dato tempo per giocare e noi non riuscivamo a uscire con il solito palleggio nostro. Però il Teramo è stata una squadra intelligente, molto intelligente, molto elastica, ha avuto pazienza, ha voluto giocare il suo calcio, nel secondo tempo è stata sempre in partita e pian piano che passava il tempo è sempre stata arrembante, ha mantenuto bene il processo, è stata ordinata. È chiaro che la mezz'ora iniziale del Bari è stata pesante da digerire, però credo che per lo spirito che hanno avuto i ragazzi questo è un parigio veramente molto importante. Quanto sono state determinanti i campi? Beh, sono entrati tutti molto bene, è quello che noi ci auspichiamo cercando di trovare nella squadra il comune denominatore. Mister, seconda gara consecutiva contro un'altra big di questo campionato in cui il Teramo riesce a recuperare lo svantaggio. Oggi forse era ancora più difficile, ma come diceva Lela, il merito è stato quello di rimanere in partita fino al termine. Sì, qualche volta nel recente passato ci siamo un po' sfilacciati dopo lo svantaggio, soprattutto in trasferta. Però oggi la squadra è stata eccellente sotto l'aspetto dell'equilibrio, ha avuto quello che si chiama proprio squadra, lo spirito e il fatto di far entrare anche giovani come Viero, Santoro, Minelli, ci ha dato ancora più slancio, più forza. C'è un segno inequivocabile che non c'è un'età, ma c'è una volontà. A proposito di giovani che sono entrati nel secondo tempo, mister, il fatto che siano entrati con questa personalità probabilmente è anche una buona notizia, non solo per la regina, ma anche per il futuro. Noi stiamo perseguendo, manca ancora Riccardo Cappa, che è un ragazzo che noi lo stiamo aspettando, perché ha entusiasmo, si sente partecipe. L'importante è che tutti quanti i ragazzi si sentono partecipi di un progetto, che non è un progetto chiaramente annuale, lo si sapeva, ma è un progetto con tutti i giocatori nuovi, che deve avere un percorso difficile, lo abbiamo fatto e dovremmo ancora farlo, perché siamo ancora distanti. Quanto fa un punto conquistato in questo modo, su un campo del genere, contro questo avversario, nel processo di crescita del Teramo? Se siamo intelligenti e quindi equilibrati e quindi umili, queste prestazioni qua devono darci un po' di autostima in più, un po' di coraggio in più e un po' sicuramente di allegria in più, perché abbiamo passato dei momenti veramente pesanti, ma erano chiaramente dei passaggi obbligati. La regina domenica fa paura? No, abbiamo prima il Siena in Coppa Italia, stiamo pensando anche a quello e quindi noi dobbiamo essere preparati a fare una partita importante in un campo difficile, ancora una volta in trasferta, e questo purtroppo è una rottura di scatole. Però abbiamo il dovere sacrosanto di vedere ancora all'opera diversi giocatori come il soprano e quindi probabilmente sarà della partita, dico probabilmente. Vedremo se recuperiamo l'Asica all'ultimo tuffo, anche se sarà difficile, però abbiamo questo impegno prima, dopo avremo un'altra partita. Ci descrive, mi sarebbe l'emozione, al gol e poi al triplice fischio sotto lo spicchio dei sostenitori del Teramo? Allora, noi siamo molto emozionati, non tanto per aver fatto 1-1 a Bari, perché reputo il Bari è una squadra fortissima, però è nel campionato, non ci siamo mai permessi di guardare in casa da altri e questo lo facciamo ancora tutt'oggi. Però vedere i nostri tifosi gioire al San Nicola dopo un pareggio conquistato come vogliono loro, cioè quindi con impeto, con voglia, con... Il famoso impeto assalto. Con il Sturm und Drang, quindi questo credo sia la cosa che per loro abbia dato più soddisfazione, perché quando vedono una squadra che lotta, una squadra che non molla, una squadra che ha spirito e sacrificio, il tifoso raddoppia. Noi siamo orgogliosi, ho la pelle d'oca solo al pensiero di aver visto tantissima gente da Teramo e noi pensiamo di avergli dato una soddisfazione che non deve essere comunque giornaliera. Loro devono sapere che noi lavoreremo sempre forte, qualche volta succederà che faremo anche male, però lavoreremo sempre forte per una città. Ti aspettavi un impatto del genere da parte di Minelli? Sì, perché è pronto e deve scalare un po' la gerarchia, però Simone l'ho avuto in nazionale, un ragazzo a cui io tengo particolarmente, adesso è pronto e ci può dare qualche soddisfazione.